era durante il giorno, di notte invece una straordinaria investigatrice che indaga su fenomeni paranormali e si ritrova ad affrontare casi incredibili che sfiorano l'impossibile. Geniale no? E' una novità assoluta nel panorama italiano del fumetto, le assicuro, ma dico ci pensa, una donna manager che si trasforma in dark lady, è una novità geniale, penso che è geniale. No, non mi piace, non mi piace neanche questo posto, chi di voi ha avuto l'idea di venire qui?